Ciao, sono Matteo Pitaluga e all'interno di questa pagina voglio presentarti il nostro protocollo marketing. Il protocollo marketing è un servizio done for you dedicato a imprenditori e professionisti con attività avviate che vogliono delegare completamente il proprio marketing assicurandosi allo stesso tempo contatti di clienti in target che arrivano tutti i giorni. Se sei infatti un imprenditore, un'imprenditrice o un libero professionista avrai capito che è molto difficile riuscire a star dietro al proprio marketing. Parlo di creare contenuti, pubblicare sui social, fare video, ci sono tutte quelle azioni che sai che dovresti fare però non hai il tempo di seguire. Purtroppo però ci sono anche là fuori agenzie che ti garantiscono di prendere in mano la tua attività e portarti clienti ma poi di fatto con tutto quello che promettono non rispettano mai la parola data. Il protocollo marketing è invece qualcosa di completamente diverso. All'interno del protocollo marketing dopo un'attenta analisi da parte mia e del mio team portiamo infatti a bordo solamente attività che hanno tutte le carte in regola per poter generare contatti di nuovi clienti online in automatico e ti dirò di più questo protocollo ha una garanzia assoluta per cui se entro 90 giorni non saremo in grado di migliorare i tuoi canali social automatizzare il marketing e portarti contatti di nuovi clienti in target tutti i giorni estenderemo la durata del contratto gratuitamente e continueremo a seguire la tua attività finché questi risultati non saranno raggiunti. Il protocollo si compone di tre parti principali. I primi 30 giorni dove andremo ad analizzare i tuoi canali social andremo a ricostruire il tuo status online elevando la qualità dei tuoi canali digitali. Nella seconda parte del protocollo costruiremo un funnel di marketing se infatti hai investito nella creazione di un sito web magari con un'altra agenzia o con dei web designer e questo sito è solamente un costo per la tua attività nel senso che non porta contatti non porta vendite quello che andremo a fare sarà cambiare questo sito e trasformarlo in un funnel c'è un sito che porta conversioni un sito che non è solamente un costo per la tua attività ma di fatto genera contatti di clienti ogni singolo giorno. E nella terza parte del protocollo andremo a lanciare gli annunci pubblicitari. Questo serve a portare traffico cioè a nuove persone in target che scoprono i tuoi prodotti o servizi tutti i giorni, atterrano sul tuo sito, leggono le informazioni e ti contattano quando sono pronte a pagare. Come dicevo il protocollo marketing ha una garanzia assoluta per cui se entro 90 giorni non saremo riusciti ad aumentare i contatti per la tua attività e automatizzare l'arrivo di nuovi lead per il tuo business estenderemo la durata del contratto per tutto il tempo che serve allo scopo di garantirti questi risultati. All'interno della pagina trovi tutti i dettagli sul protocollo marketing e puoi prenotare la prima analisi da parte del nostro team per capire se la tua attività si qualifica ad essere parte del protocollo. Ti mando un abbraccio, avanti tutte come sempre, all in! Grazie a tutti! Grazie a tutti!